Sono membro della società dei Valdesi tedeschi, tantissimi anni e ora anche nel periodo della pensione sono volentieri impegnato nell'associazione. Mi rallegro sempre di nuovo dei forti legami tra la chiesa valdese e noi. Come vengono portati avanti i rapporti tra i valdesi tedeschi e i valdesi delle valli? Da molto tempo organizziamo viaggi con gruppi, sono più di 30 anni che organizziamo viaggi con gruppi e andiamo a visitare le valli valdesi. E poi anche con i rapporti personali stretti che abbiamo con delle persone come Amalia Jemé e Mirella Abate. Ad esempio i culti che io da tanti anni tengo a Villar Pellice insieme al pastore Bruno Gabrielli. Quanti sono i valdesi tedeschi adesso in questa zona anche rispetto agli altri protestanti tedeschi e dove sono concentrati? Noi contiamo che più o meno qui nel Württemberg abbiamo più di 10.000 persone che discendono da famiglie valdesi. I valdesi sono membri a tutti gli effetti della chiesa evangelica del Württemberg, della chiesa evangelica dell'Essen, della chiesa evangelica del Baden. Quando sarà allora la prossima volta che vi potremo vedere nelle valli e se magari avete in mente anche viaggi oltre le valli, nelle altre strutture valdesi italiane? Alla fine della prossima settimana saremo di nuovo a Torre Pellice e siamo insieme alle comunità dei viaggi in Francia, nel Louberon, nel Cairas e siamo anche andati fino in Sicilia. Grazie mille mister Temme e allora la prossima volta a Torre Pellice. Ich freue mich, vielen Dank. Grazie.